Andrà sicuramente, io penso come futuro, a un percorso formativo, educativo, che trova dalle scuole elementari fino a licei, all'università, il suo percorso. Però alla fine, quando tutto questo diventerà realtà, diventerà un grande museo, verranno i turisti e ci dovrà essere anche quell'essere guida, una guida spirituale. Ecco, più che affidarlo agli storici dell'arte, mi farà piacere forse donarlo a quell'uomo innocente che noi purtroppo nella nostra società chiamiamo Down. Ecco, invece con quel cromosomo in più, geneticamente esiste nel pianeta Terra, nel pianeta umano, l'unico valore di innocenza. Ecco, se noi oggi vogliamo vedere un uomo veramente innocente, forse dobbiamo andare sempre in questi ragazzi Down. E allora perché pensare a un domani, a un futuro, anche nella sua gestione, a prescindere dalla mia persona, ecco, pensare alle grandi organizzazioni didattiche, questo sì. Ma è anche bello pensare che i custodi e i guardiani di questo luogo e anche moralmente i proprietari, ecco, non siano questi uomini che ancora oggi, camminando e sacralizzando la nostra società, testimoniano l'innocenza e il cuore a tamburo di bellezza. Oggi gli arbusti, la natura tutta, il paesaggio si è impossessato di questo luogo, ma Antonio Presti come lo immagina nel 2050? Come immagini le rocce nel futuro, non troppo lungo, non è lontano? Un luogo di condivisione di quella bellezza, ma anche un luogo che restituisce bellezza a tutto il territorio. La fondazione avrà come sua mission non solo la rigenerazione delle rocce stesse, ma dalle rocce irradierà fiori di bellezza a tutti quei paesi, a tutti quei comuni del territorio che hanno bisogno di aiuto, di storia, di cultura, di futuro, di turismo. Ecco, allora Taorbina, anche con questa rigenerazione delle rocce, può riprendersi un suo valore etico di restituzione. Se una cultura anche turistica, nel suo essere perle dello Ionio, le ha restituito un'anima centripeta, oggi forse è tempo che Taormina ritorni a essere centrifuga. Le rocce centrifugheranno tutto il territorio, restituiranno futuro, sviluppo, cultura, conoscenza, per questo le scuole sono importanti. E questo luogo non sarà la rigenerazione di se stesso, ma sarà la rigenerazione dell'altro da sé. E' nell'altro da sé che Taormina può ritrovare il suo senso di futuro, non solo nel prendere, ma nel restituire. Questo lo devono fare tutti quei luoghi turistici, di attrazione turistica, che in Sicilia abbiamo tanti luoghi di questa bellezza universale. Ecco, tutte le comunità, tutte le amministrazioni, tutte le politiche di questi luoghi non devono dimenticare che come sono stati baciati dalla fortuna, dal soldo, dalla bellezza, tutto questo lo devono sempre restituire al proprio territorio, aiutando il proprio territorio, non prendendo e basta. E lo stesso potrebbero assumere un valore politico e civile tutti i turisti, che creando un grande percorso di itinerario turistico monumentale all'aperto, di sculture come io ho fatto ai fiumari d'arte, tutti i turisti viandanti quando verranno qui a Taormina, non solo dovranno andare a visitare a Taormina, ma per politica civile e etica dovranno fare un percorso di rigenerazione di tutte queste piccole comunità, dove appunto grazie all'arte, alla cultura, alla conoscenza possono sicuramente riconiugare il loro senso di futuro, e non di morte e di abbandono come purtroppo in alcuni paesi oggi troviamo.